Il rimpasto della giunta Alessandrini a Pescara con l'uscita di scena probabile dopo 11 mesi dell'assessore Stefano Matteucci Civitarese al posto di Gianni Teodoro, oltre all'avvicendamento fra Raula Di Pietro e la consigliera Simona Di Carlo, agita la maggioranza e vede le critiche feroci del centrodestra che questa mattina per bocca del capogruppo Marcello Antonelli è arrivato a chiedere le dimissioni del primo cittadino e l'arrivo del commissario prima delle elezioni. Critici sicuramente, ma soprattutto preoccupati, preoccupati per la città perché questa è una città completamente paralizzata, senza governo, con un sindaco inesistente che ha passato l'estate a gingillarsi attorno a questo rimpasto ormai che assume i contorni del ridicolo, con le decisioni ultime che sembrerebbero vedere fuori l'assessore Civitarese, che era quello che avrebbe dovuto rilanciare la fase 2 dell'amministrazione comunale a guida Alessandrini. Dopo 11 mesi gli viene dato il ben servito, non si capisce francamente per quale ragioni. Io immagino che sia la vendetta di D'Alfonso e di qualche dirigente del comune che continua a partecipare ai tavoli politici, non si capisce bene a quale titolo, per i no detti a Pescara Porto, per esempio, da parte dell'assessore Civitarese, a cui riconosciamo grande onestà intellettuale, e anche un lavoro che aveva sviluppato e che a settembre avrebbe dovuto aprire un confronto serio sui temi strategici in Consiglio Comunale. Tutto questo non avverrà, non avverrà e nel deserto che ormai caratterizza l'amministrazione Alessandrini, noi riteniamo che sia veramente giunto il momento per Alessandrini, lui, di andare a casa. Non di mandare a casa qualche assessore per farne entrare qualcun altro, ma di andare a casa perché ha bloccato la città, l'ha letteralmente distrutta, questa è una città sporca, insicura, senza governo, si ridesse la parola ai cittadini. Ci pare l'unica scelta dignitosa che Alessandrini possa davvero compiere in questi giorni. A questo punto, invece, secondo voi, cosa accadrà? Accadrà che, secondo il vecchio teatrino della politica, Civitarese, che non aveva difensori in Consiglio Comunale, andrà a casa. Entrerà un nuovo assessore di rappresentanza della lista Teodoro, aumentando peraltro la conflittualità. Io penso che ci sarà un anno e mezzo in cui, dentro la maggioranza, continueranno a litigare, perché non sono d'accordo su nulla, e quindi ci sarà un disastro per Pescara. Un anno e mezzo perso, quando invece si potrebbe tranquillamente recuperare terreno, ripeto, ridando la parola agli elettori. Qualche mese di commissariamento e poi parola ai pescaresi perché scelgono una nuova amministrazione.